Musica Nella competizione elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo, il Movimento 5 Stelle ha fatto il pieno anche nei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte, confermandosi primo partito politico in questi territori, seguito a ruota dalla Lega e dal Partito Democratico. Ma vediamo i risultati elettorali, comune per comune, partendo da Lentini. Fratelli d'Italia ha riportato 447 voti, pari al 6,73%, Partito Democratico 1.059 voti, 15,95%. Popolo della Famiglia Alternativa Popolare, voti 22, pari allo 0,33%. Forza Nuova, voti 4, pari allo 0,06%. Forza Italia, voti 561, pari all'8,45%. Lega Salvini Premier, voti 1.648, pari al 24,82%. Partito Pirata, 11 voti, pari allo 0,17%. Movimento 5 Stelle, voti 2.672, pari allo 40,25%. Europa, Italia in Comune, PDE, Italia, voti 49, pari allo 0,74%. E ancora, Europa Verde, voti 37, pari allo 0,56%. Popolari per l'Italia, voti 5, pari allo 0,08%. La Sinistra, voti 52, pari allo 0,78%. Partito Comunista, voti 40, pari allo 0,6%. Partito Animalista, voti 16, pari allo 0,24%. Ed infine, Casa Pound Italia, Destre Unite, voti 16, pari allo 0,24%. Questa è la situazione per Lentini. Questi i risultati elettorali nel Comune di Francofonte. Fratelli d'Italia, voti 168, pari allo 4,68%. Partito Democratico, voti 401, pari all'11,18%. Popolo della Famiglia Alternativa Popolare, voti 5, pari allo 0,14%. Forza Nuova, voti 2, pari allo 0,06%. Forza Italia, voti 875, pari allo 24,39%. Lega Salvini Premier, voti 757, pari allo 21,10%. Partito Pirata, voti 1, pari allo 0,03%. Movimento 5 Stelle, voti 1,210, pari allo 33,72%. Europa Italia in Comune, PDE Italia, voti 18, pari allo 0,50%. Federazione dei Verdi, voti 25, pari allo 0,70%. Popolare per l'Italia, voti 3, pari allo 0,08%. Sinistra Rifondazione Comunista, voti 92, pari allo 2,56%. Partito Comunista, voti 19, pari allo 0,53%. Partito Animalista Italiano, voti 8, pari allo 0,22%. Ed infine Destre Unite e Casa Pound, voti 4, pari allo 0,11%. A Carlentini, Fratelli d'Italia, voti 360, pari allo 6,65%. Partito Democratico, voti 984, pari al 18,17%. Popolo della Famiglia, voti 12, pari allo 0,22%. Forza Nuova, voti 6, pari allo 0,11%. Forza Italia, voti 431, pari allo 7,96%. Lega Salvini, voti 1,081, pari allo 19,96%. Partito Pirata, voti 14, pari allo 0,26%. Movimento 5 Stelle, voti 2313, pari allo 42,70%. Europa, Italia in Comune, voti 38, pari allo 0,70%. Europa Verde, voti 54, pari all'1%. Popolari per l'Italia, voti 11, pari allo 0,20%. La Sinistra, voti 54, pari all'1%. Partito Comunista, voti 23, pari allo 0,42%. Partito Animalista, voti 24, pari allo 0,44%. Destre Unite, voti 12, pari allo 0,22%. A Carlentini le schede bianche sono state 43, mentre le schede nulle 163. Il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, esprime le sue felicitazioni a tutti gli otto eletti nella circoscrizione isole al Parlamento europeo e si augura di cuore che possano portare nel Parlamento europeo le istanze del territorio di Sicilia e Sardegna, che vive situazioni fra le più disastrose d'Italia. Sono certa, afferma il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, che lo faranno i nostri deputati Dino Giarusso e Ignazio Coravo, nell'attesa che possa arrivare anche la bella notizia di un terzo possibile seggio per Alessandra Todde, alla quale vanno i miei complimenti e i miei auguri. A Lentini un tratto di via Archimede è completamente al buio. Desaggi e pericolo quindi per gli anziani che la sera percorrono questa strada cittadina. Al Comune cosa fanno? Aspettano forse il Principi Azzurro per svegliarsi dal sonno? E da giorni, per non dire da settimane, che i cittadini segnalano questo annoso problema?